Ciao, sapete che oggi ogni stato d'animo, ogni sfumatura dei nostri pensieri o dei nostri sentimenti ha un nome e molti sono coniati direttamente dall'industria farmaceutica, così poi può inventare una molecola e produrre una medicina. Ma gli stati d'animo sono vissuti come reali da chi li prova e chi li prova lo sa e in questo periodo di festa e natalizia non tutti provano la scintillante gioia delle feste. Diverse persone durante le mie consulenze di naturopatia mi raccontano di provare tristezza proprio durante le feste, una malinconia, un fastidio incontrollabile. Mi raccontano che i colori del Natale, le luci scintillanti, gli alberi, gli addobbi, i dolci tipici come il pandoro e il panettone e anche gli auguri di rito li mettono a disagio invece di trasmettere gioia ed euforia. Mi chiedono perché avviene e cosa fare. Così ho pensato di dedicare un video a questo argomento per trascorrere le feste con meno stress e più benessere e per farlo vi darò la mia strategia antidepressiva completa per le feste. Anche perché un po' capisco chi si sente così. Io da bambina mi facevo prendere da questi stati d'animo in certe occasioni. Volevo andare controcorrente e mi davano fastidio tutti quei sorrisi che reputavo finti. Ricordo mia madre che mi diceva di traverso, Simona non fare la tua faccia delle feste. Come potete immaginare non era una faccia molto sorridente. Poi le cose sono cambiate e oggi sorrido volentieri anche durante le feste. Ma ci sono molte persone a cui l'albero, le luci, i regali, soprattutto l'organizzazione, poi i pranzi, le cene, i parenti, gli auguri, anziché dare gioia mettono angoscia. Anche a voi capita o conoscete qualcuno a cui succede? E questa insofferenza verso le feste natalizie ha anche un nome, come dicevo all'inizio di questo video. Comunque esiste e si chiama Christmas Blues, la depressione natalizia o delle feste. Scusa Simona, ma perché uno dovrebbe sentirsi giù quando arrivano le feste? Siamo tutti qui per festeggiare! Il Christmas Blues si manifesta perché in questo periodo tutto è amplificato. Le celebrazioni di solito si collegano al senso di famiglia, quindi l'insofferenza può aumentare se in casa si è vissuto un disagio di recente o se si è persa magari una persona cara. Può anche capitare che durante le feste invece di sentirsi ottimisti e positivi ci si senta pessimisti e negativi. E chiaramente chi ti sta vicino non ti capisce e resta male perché vede che non partecipi e sei insofferente. A volte impreda un vero e proprio malessere fisico. Ecco allora la strategia completa che ho creato per non abbattersi in questo periodo perché non è mai bello sentirsi abbattuti. Mettetela in pratica e vedrete che trasformerete lo stress in benessere, il disagio in cura di voi stessi. 1. Decidete di trascorrere questo periodo come se fossero giorni uguali agli altri in cui solo si lavora di meno e bisogna fare qualche uscita extra. A volte le feste ci obbligano a cambiare ritmo e stile di vita anche in modo radicale. Passiamo da tanti impegni lavorativi a un riposo totale e poi ci sono le visite ai parenti, le cene, i pranzi, i regali da comprare obbligatoriamente e in molti casi questi cambiamenti così concentrati in un momento dell'anno intasano la sensibilità e possono essere vissuti come fastidiosi. 2. Non fatevi assediare dall'obbligo di andare da qualche parte a tutti i costi, di fare un viaggio, di fare vacanze, da cui tornate a casa più stanchi di prima, visti pochi giorni a disposizione. Trovate il coraggio di dire un sano no. Quando vi propongono la solita ammucchiata di parenti dove sapete già che finirete in un angolo soli a rimuginare, prendete il coraggio e dite preferisco di no grazie con un sorriso e se qualcuno insiste e vi domanda perché rispondete così nulla di personale anzi mi farebbe piacere vederti ma in queste feste ho bisogno di rigenerarmi. Ti prometto che verrò a trovarti quando sarà il momento giusto e mi farà tanto piacere. 3. Fate azioni positive per il vostro benessere. Scegliete un'alimentazione leggera per esempio con il mio menù delle feste che trovate in questo video. Fate movimento regolare se non proprio sport almeno fate passeggiate. Andate a vedere quell'angolino di città che vi ripromettete sempre di vedere. Portate fuori il cane più spesso sarà contento anche lui. Fate una pedalata in bicicletta. L'importante è farlo nelle ore di luce. Esponetevi alla luce del sole. Fate una doccia di luce e quando i raggi del sole vi illuminano e vi scaldano con il loro tepore pensate che quella luce vi ricarica in profondità. Fermatevi, respirate, sorridete, distendete il viso. 4. Trovate il tempo di dedicarvi a voi stessi, al vostro benessere ma fate in modo che qualcun altro si prenda cura di voi. Un bel massaggio, dei trattamenti termali, una bella spa. Se potete trovate due o tre giorni di fila in cui regalarvi queste coccole rigeneranti. 5. Invece di correre rallentate, staccate dagli impegni. Leggete quel libro di evasione che non avete mai il tempo di leggere e così il prossimo Natale non vedrete l'ora che arrivino queste feste tutte per voi. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Sapevate che secondo le statistiche a Natale sono sempre di più le persone che soffrono di questo disagio emotivo, tanto che Natale rappresenta uno dei picchi depressivi più forti dell'anno. Allora condividete questo video più che potete sui vostri social, via mail, con i vostri amici così aiuterete altre persone a vivere un Natale più sereno. E nei commenti qui sotto scrivetemi se avete superato queste sensazioni e come avete fatto. Chissà che qualcuno non sia ispirato dalla vostra esperienza. E adesso che sapete come fare per superare le feste con gioia ed energia accettate i miei auguri e godetevi questi giorni. E se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Per vedere tutti i miei video e ascoltare tutti i miei consigli è facile, basta un click così. E ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao! Ciao!